ciao a tutti da iota bentornati sul canale oggi affronteremo la missione numero 3 con la propiettia di Cain e ha sento l'armi a Cyprus per la riemergazione del mondo del mondo ma l'armi mette una resistenza con i locali orti Kaya senti il farseer Maka per aiutare la sua forza Based upon her organ rules, Maked did not trust the prophecy, and suspected there were sinister forces at work. These orcs do not die easily. I will need to fight through them in order to take command of the Eldar here. You were wise to come to me. For my people, no fear! Here are paths aligned. Si, mi è impartita una skill... Ah, è proprio spammone! No, 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 non se, ma quando! Ok, la... La lancia incantata è proprio... Si può castare due o tre volte. O non si può spammone. Si può spammare il decreto che mi stava spammando. Si può spammare la sua vita! Si può spammare la sua vita! Si può spammare la sua vita! A me! Ok... 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 Ok, questa è corsa, questa è passiva. Perfetto. Non capisco se Rosa è lo scudo, oppure no. Però perché mi perde la selezione? Mi sta dando fastidio perché perde la selezione. Va bene, continuiamo. Parlerò poco perché l'ambientazione e questa missione, la musica, è veramente carina e rilassante. Voglio che gustiamo a pieno la missione. Anch'io voglio gustarmi a pieno la missione. Grazie per questo video. Visi, guarda! Visi, guarda! Visi, guarda! Questa, guarda! Grazie a tutti! 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 Mi sembrava strano, avevo un raggio più lungo del nostro... Grazie a tutti! 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 Silmo! Grazie a tutti! 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 Sono Maka, di Biltan! Qui sono le parti alineate! Qua c'è la nostra base, va benissimo! Qui sotto non ci dovrebbe essere nulla! Ok! Nel tempo che siamo qua, torniamo un attimo alla base! Ci recuperiamo un po' di energia! È un risultato che il basso di Maka ha l'attenzione di James R. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Passiamo! Poi... Siamo Disciples di James R. Un grande Dio, è pronto! Dovremmo esserci... Siamo tutti chiamati un Bonesinger a noi! Tu eri vissi di venire a me! Un Bonesinger risponde la chiamata! Qui ci sono le parti alineate! Tu però... Sei uno spettatore! Ok, stai qua! E ti chiamerai due! Esatto! Ti chiamerai due! Cioè... Ti sei ritrasportato? Non c'è qua! Ficco! Va bene! A presto rimani qua! Questa è Sparta! Ok! Ehm... Un Bonesinger, pronti per servire! Un Bonesinger, pronti per servire! Ehm... 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 Se tu antagonizzare l'Orc leader enough! Non dobbiamo rilassare l'attacco sulle Tauri War! Andiamo a conquistare quest'altro punto di controllo... Per i miei persone, nessuna giornata è una burda! Io ho detto che tu dovessi continuare! Il target è eliminato! Avanziamo! Tutti! Tanti siamo ranged, quindi... E la bug tower è... ... abbastanza scarsa! Ah, ok! Ma... Prima però voglio conquistare quest'altro! Facciamo così... Tu hai il tuo Bonesinger! Io lo prenderò! Il target è completo! Io posso arrivare! Ehm... Abbiamo un obiettivo bonus da fare! Li facciamo subito! Li aspettiamo qua! All'incrocio! Tanti devono per forza passare da qua, in teoria, no? Eccoli qua! Eccoli qua! Mi scappa uno! Chissons, be wary! Vediamo se ce la facciamo con lui, tu, con lui, con lui, con lui, vieni qua! Grande! Mi spiace, però... Ho sacrificato uno per salvarmi 100. Mi spiace un po', però... Era l'unico modo per... Ok, nel frattempo... Visto che è qua... Ci sono un po' di... C'è un po' di... C'è un po' di piazza politico... Cos'è questa cosa che corre? Questa ci farà male... Sapevo che era una bomba... In effetti è vero... They perish... Ehm... No, di qua no... Nel frattempo direi... Possiamo fare il potenziamento numero 2, figo! Allora... Ehm... Io direi di fare un F qua... Ok... Prendere quest'altro. Posso fare... Ok... Ehm... Ehm... ... Quello che si può fare... Ok... Quindi sì... Io faccio... Ok... Vabbè sei morto Era un testo È per me guidarci La mia navicella Queste qua non si potrebbero recuperare Un altro convoy inbound Questo anche dovrebbe essere eliminato Cosa ti necessitai? Con la mia mano io avrò il nostro destino Quindi praticamente se i convogli Stanno arrivando Io potrei Stanno arrivando Il primo è vero Un altro convoy? È vero Cosa è una malata Un altro convoy Ma noi Non ci sono Un altro convoy Deve non sa che ci svegli È vero Non capisco solo una cosa, costruisci un portale del cielo, questo credo sia un secondario, ma non capisco, come si faccia, vediamo se magari... Abbiamo ancora bisogno di antagonizzare al orc leader. Siamo non potrezzurrere il nostro attacco sulle tauro. Grazie. Upgrade complete. Va bene. C'è un altro dembolio da distorsione. Quindi per andare lì dobbiamo girare tutta l'altra. Per fare questo giro di qua Per arrivare qua Questo ultimo Lasciamo per ultimo Perché di come ho capito i convogli arrivano da qua Quindi ce ne manca l'ultimo Ci manca l'ultimo Dire di aspettarlo E poi Fare Quei i nostri obiettivi Tanti i nostri soldati adesso si piazzeranno qua Oh era qui No se non mi ricordo male era qua Andate E non mi ricordo male Stanno in via Se il porto è una macca Adesso Cioè Subito sono arrivato Ce la facciamo arrivare prima del convoglio Al bivio Se ce la facciamo E' ottimo Perché loro si incastrano qui E questi saranno ancora più duri da uccidere Ready here Power reserves show a surplus Showed I am upon the path Yes I see how this ends Sono velocissimi We have failed The transports have unloaded their foul troops One more You have set my mind for destruction I will leave my people forward Not all over your boys again Less of them to threaten to cross The enemy erased The threats of fate are tangled Our future of the best court I can cut C'ha fregato il portale The avenger shrine shall send it's warriors Non posso creare un portale qua sotto C'è un creatore di portali No Lo vorrei creare Con la mia mano Spero rilasciare i nostri destino Dire avengers Sons of the call For my people No journey is a burden Ci riproviamo Ogni quanto tempo spawna Devo creare un portale del cielo Non so come si fa Un portale del cielo È per me di guidarci Io sono Matt Un bonsinger Siamo pronti per servire Tu hai il tuo bonsinger Per esempio tu Vai qua No, troppo, troppo Lontano Ho una grande Per la mia gente No journey is a burden Facciamo questa strage veloce I can cut Summoning dire avengers It is for me to guide us We have yet to antagonize the orc leader enough We must not relent in our attack on his war towers Dire avengers Answer the call Watch turns on this action You see it They brought us a fight Our tally grows None rule here but us I have destroyed orcs I'll brave the gauntlet I have to kill you No, why don't you do that the game Think of it, no more Unless you will Trust in no other Because of this No, why don't you play this video No, why do you do that ? You son, go up Think of it, no more Not if, but when Sì E' un po' che esplosso C'hanno devastato Sono rimasto sola Ok, va bene Ci prendiamo questo Le altre turpe ce le ho C'è qualcosa che spomna qui e adesso dovrebbero arrivare da qua Vediamo se c'è qualcosa qui Dopodichè Ce ne andiamo Edifici ecco Sono stato fregato perché con voi gli stanno andando all'altra parte Brutta cosa Ho capito come sono in edificio adesso Ho capito Eh, lo so È un massacro Si Sì Sì Lo so Che Sì 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 Grazie a tutti! 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 Ok... Grazie a tutti!